Gli interventi previsti dall'avviso numero 5 da oggi sul sito della Regione Abruzzo sono finalizzati al mantenimento dei posti di lavoro o alla transizione occupazionale dei beneficiari individuati in lavoratori provenienti da processi di crisi aziendali di unità produttive collocate sul territorio della Regione e per settori di trattamenti di integrazione salariale che, pur formalmente occupati, necessitano di interventi finalizzati alla continuità occupazionale. La misura 5 è importantissima perché riguarda i lavoratori in fase di transizione occupazionale e che, a differenza delle altre misure, hanno comunque un contratto di lavoro che è assistito dal punto di vista salariale da un'integrazione, pensata alla cassa integrazione ordinaria o straordinaria. E serve a fare che cosa? A preparare questi lavoratori verso un nuovo percorso lavorativo che può avvenire nella stessa azienda da cui dipendono in quel momento o verso nuove aziende. La misura del patto 5 si caratterizza per il protagonismo che avranno sia le aziende, quindi i datori di lavoro, che chiedono nuova formazione e gli organismi di formazione. Si rivolge in particolare alle situazioni di crisi aziendali che riguardano problemi collettivi, non singoli lavoratori, ma lavoratori che in gruppo, facendo parte di aziende che stanno in crisi, stanno subendo una difficoltà e addirittura un rischio di perdita del proprio posto di lavoro. Questi fondi serviranno a fare in modo che l'azienda possa offrire percorsi anche di riqualificazione professionale, di aggiornamento tecnologico, di trasformazione anche dei processi produttivi che rendano di nuovo compatibili la presenza e il lavoro di queste donne, di questi uomini, dei loro impiegati con gli obiettivi dell'azienda. Più in generale, con il programma Goal, noi siamo impegnati adesso a dare concretezza, siamo al punto di svolta dopo la progettazione, la programmazione, la presa di contatto e su questo l'assessore ha relazionato come l'Abruzzo abbia pienamente raggiunto tutti gli obiettivi che erano stati posti dal PNRR e adesso però viene il difficile, viene il momento in cui tutto questo bagaglio di lavoro messo in campo si deve trasformare in posti di lavoro, grazie a tutti